Analizziamo ora la versione 3, pagina 235, intitolata Bisogna rinnovare a Cesare il proconsulato della Gallia, tratta da Cicerone. Si tratta di una orazione, quindi di un discorso che Cicerone tiene davanti al Senato. Quindi già da lontano vedete che ci sono molte interrogative e quindi l'impostazione non è quella narrativa ma è quella di una vera e propria orazione. Intanto leggiamo. Numma eum amenitas locorum, urbium pulcretudo, hominum nacionumque illarum humanitas et lepos, victoria cupiditas, finium imperii propagatio retinet. Quid illis terris asperius, quid inculzius illis opidis, quid illis nationibus immanius, quid porro totto victoris prestabilius, quid oceano longius inveniri potest? Numma eius reditus in patria abet offensiones, utrum apud populum a quo in Gallia missus est, an apud senatum a quo ornatus est, quare, si non nulli illum hominem non diligunt, nil est quod eum de provincia devocent. Ad gloriam eum devocant, ad triunfum, ad gratulazionem, ad summum honorem senatus. Andiamo ad analizzare questa versione. Intanto abbiamo un aiuto che ci traduce l'incipit quid est e dice che motivo c'è. Perché est è l'arbitro principale, quid pronome interrogativo, visto che in fondo abbiamo il punto di domanda. Allora, quid pronome relativo per il punto di domanda che c'è in fondo. Quindi che motivo c'è? Che cosa c'è? Cur. Cur. Lo mettiamo insieme con velit. Quid est cur. Qual è il motivo? Che cosa c'è? Perché? Cesar, velit. Cur l'abbiamo visto nei pronomi, negli aggettivi e a verbi interrogativi. Con il verbo velit. Velit da volo. Che regge di per sé l'infinito. Il soggetto è Cesare. Cesare velit rimanere in provincia. Poi abbiamo, costruzione rettoricamente molto costruita, molto curata. Nisi. Senon. E poi abbiamo ut. Andiamo a cercare il suo verbo. Che è perficiat. Ut perficiat. Terza persona singolare. Quindi il soggetto continua ad essere Cesare. Perficiat. E invece ea. E, complemento oggetto. Ea. Neutro plurale. Collegato con que. Che è il pronome relativo. Ea que. Dimostrativo. Più relativo. Accusativo. Quelle cose che. Verbo. Adfecta. Sunt. Per eum. Ancora per. Più accusativo. Di una persona. Quindi. Mezzo. Con persona. Attraverso di lui. Per mezzo di lui. Issaid. Eum. Manca una virgola di conclusione di questa relativa. Qua è per eum. Adfecta. Assunto. Erei. Pubblica. Romeque. Lo chiuderei lì. Anche se potrebbe essere anche retto da perficiat. Però. Proviamo così. Ea que. Per eum. Adfecta. Assunto. Erei. Pubblica. Romeque. E abbiamo. Ut. Perficiat. Ea que. Complemento oggetto. Quindi. Ricapitolando. Dest. Cur. Probabilmente sul vocabolario trovate tutta l'espressione anche insieme con cur. Per trovare un modo per renderla. E abbiamo. Cesaro. Vedite. Rimanere. In provincia. Se non. Ut. Più congiuntivo. Ed è una proposizione finale. Ut. Perficiat. Ea. Complemento oggetto. Ea. Que. Per eum. Adfecta. Assunto. Repubblica. Romeque. Seconda frase. Inizia con un num. Se ci ricordiamo. Il num. Introduce. Anche questo. Una interrogativa. Quindi partiamo col num. E' un'interrogativa. Andiamo a controllare. Se ha un punto di domanda in fondo. Per individuare. Se è interrogativa diretta o indiretta. C'è il punto di domanda. Quindi. Interrogativa diretta. Principale. Il verbo di questa interrogativa. Che è quindi il verbo della principale. E. Dobbiamo avere molta pazienza. E arrivare fino a retinet. Retinet. Eum. E' il complemento oggetto. E si riferisce a Cesare. Viceversa. Il soggetto. Come individuiamo. Anche dalla nota. Che dice. Che è riferito a tutti e sei i soggetti. Il soggetto è polverizzato. In sei pezzi. E allora. Quali sono questi sei pezzi? Amenitas. Uno. Pulcritudo. Due. Humanitas. Etlepos. Tre. Quattro. Cupiditas. Cinque. Propagazio. Sei. Sono questi sei soggetti. Il verbo è singolare? Sì. Perché i latini lo concordano anche solo con l'ultimo soggetto più vicino a lui. Noi lo possiamo fare lasciandolo a singolare? No. Perché diventa un errore grammaticale in italiano. Quindi. L'amenitas. Locorum. La pulcritudo. Urbium. Guardate come la costruzione è analoga per tutti e sei i soggetti. Quindi. Nominativo più genitivo. Pulcritudo. Nominativo. Urbium. Genitivo. Humanitas. Etlepos. Con due genitivi. Ominum. Et nazionum. Illarum. Cupiditas. Con il suo genitivo. Victoria. Propagazio. Finium. È il suo genitivo. E dopo finium. Elfinium. Imperi. Retinet. E non lo faremo plurale. Eum. Complemento oggetto. Se vogliamo lasciare là il complemento oggetto metteremo in principio anche il verbo e poi l'elenco dei soggetti. Di nuovo inizia un'altra frase introdotta dal quid che visto l'andazzo dovrebbe essere di nuovo interrogativo. Controlliamo se in fondo alla frase c'è il punto di domanda. Eccolo qua. Ma il quid non è da solo. Ce n'è uno, due, tre, quattro, cinque. Ho sbagliato il punto di domanda. Scusatemi. Era questo il suo. Allora, quid, 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 quid e punto di domanda. Verbo. Verbo di questo quid è potest che regge l'infinito. Possum regge l'infinito. L'infinito, attenzione, è un verbo passivo. Lo tradurremo così, passivante. Può essere trovato, cioè si può trovare. Il soggetto, dicevamo, è singolare. Deve essere proprio quel quid, quei quid che abbiamo. Quid. Con quid concordiamo a sperius. Con questo quid, secondo, concordiamo inculsius. Con questo quid terzo concordiamo immanius. Con questo quid quarto mettiamo prestabilius. E con questo quid ultimo mettiamo longius. Qual è la caratteristica di questi che sono aggettivi? Sono tutti di grado comparativo. Comparativi neutre. Che cosa si può trovare? In italiano dobbiamo dire di più e poi l'aggettivo. Il comparativo ha bisogno di un secondo termine di paragone. Che, se vi ricordate, può essere introdotto dal quam, ma anche dall'amblativo semplice. E noi abbiamo asperius, illisterris, inculsius, illis opidis, immanius, illis nazionibus, prestabilius, victoris e longius, oceano. La costruzione è parallela. Cicerone ama moltissimo fare costruzioni parallele in elenchi. E quindi, quid potest invenire asperius, illiterris, quid potest invenire inculsius, illis opidis, quid potest invenire immanius, illis nazionibus, quid potest invenire prestabilius, tot victoris, perché anche tot va concordato con victoris e declinabile, ma va concordato. E quindi, quid potest invenire longius, oceano. La nota dice che questo longius, lontano, remoto. L'aggettivo longus, questo invece è il grado comparativo, come dicevamo. Nom, di nuovo, ha il suo punto di domanda che avevamo trovato già prima. Di nuovo un'interrogativa diretta. Il verbo è uno solo, abet. Interrogativa, ricordatevi, il nom è un'interrogativa retorica. Ha già una risposta precostituita, ci si aspetta una risposta, ma basta che non lo troviamo. E non lo traduciamo così come lo troviamo. Abet, eius reditus è il soggetto, anzi, reditus è il soggetto, reditus eius, eius è il genitivo di Iseid, che si riferisce al Cesare. Il reditus eius abet, che cosa abet? Offensiones, complemento oggetto, abet offensiones, in patria, ma in più accusativo, in senso di, per rendere l'ostilità, il contro, il verso. Altra frase interrogativa, introdotta questa volta da utrum. Utrum può essere tante cose, ma qui è utrum an, è il punto di domanda. Utrum, puntini puntini, an, puntini puntini, è l'interrogativa disgiuntiva, i due pezzi. C'è il verbo? No, il verbo è sottointeso. Ecco l'abet offensiones di prima, e l'alternativa invece è posta tra apud populum e apud senatum. Utrum, apud populum, e apud populum ha l'ampliamento nella relativa a quo misus est. Il populum ha il suo sest in galliam, e invece senatum ha il suo ampliamento in a quo ornatus est. Ancora, costruzione parallela. Quare, conclusiva, congiunzione conclusiva, ma non è subordinante. Abbiamo il sì, e questa è la subordinante, e il verbo è diligunt. Guardate come gioca con le negazioni. Sì, non nulli, non diligunt. Non nulli è il pronome che abbiamo studiato. Non nulli, non diligunt. Non nulli è soggetto, non diligunt è verbo. Ominem, concordato con illum, è il complemento oggetto. Illum, ominem. Quindi soggetto, non nulli. Illum, ominem è un complemento oggetto. E questa è la nostra relativa, scusatemi, la nostra ipotetica. Nillest, quod, lo troviamo tradotto in nota, non c'è alcun motivo per cui. Nillest, est è il verbo della principale. Quod introduce il per cui, la causale. Devocent, lasciamo il congiuntivo. Nillest, quod, devocent, eum, de provincia. Ultima frase. Riprende il verbo devocent e lo riporta all'indicativo. Devocant, eum, complemento oggetto. Prima avevamo devocent, eum, de provincia. E poi abbiamo devocant, eum, retoricamente insistito all'uso di devocant. Devocant, eum, ad gloriam. E anche qui, costruzione con ad gloriam, ad, 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 ad triunfum, ad gratulazionem, ad sumum honorem. Senatus, attenzione, questo senatus è il genitivo della quarta, ricordiamo. devocant, eum, ad gloria, ad triunfum, ad gratulazionem, ad sumum honorem senatus. Che è quindi la spiegazione del perché bisogna rinnovare a Cesare il Bono Consolato in Gallia. Buon lavoro!